La moto era buona, era già buona, la carburazione era perfetta, mancavano due cose, la benzina e l'orizzonte. Roberto Bertola sceglie Casa Bruschi ad Arezzo per salutare la città da ormai ex amministratore delegato di Nuova Banca Etruria. Per lui è un giorno da ricordare, Ubi ha detto era la miglior scelta che potesse esistere. Lascia una banca in ripresa non solo nei numeri ma anche nel lento e difficile processo di riacquistare la fiducia di un territorio intero, quello aretino. Quando leggevo, sentivo, fuga da banca o quelle cose lì, dicevo non sono stato abbastanza chiaro nel far capire che per noi, e noi abbiamo lavorato in silenzio anche per quel decreto, perché più il decreto di ristoro fosse stato ampio, più noi avremmo avuto gioia. Cioè conosco i miei colleghi e conosco un po' la mia clientela o la tipologia della mia clientela e conosco anche il territorio. Questo territorio deve finalmente, e lo farà, aggregarsi, fare squadra e lo farà anche grazie a questo momento storico. Io davo loro purtroppo un orizzonte di breve periodo, adesso loro, clienti e colleghi hanno un orizzonte di medio periodo. Noi avevamo richieste anche da altri gruppi, ma che potrebbero avere ancora dei passaggi che Ubi con le sue dimensioni non ha più necessità.